Non era possibile soccorrerlo da terra né tantomeno da mare. Per raggiungere un imprenditore 61enne di Galliano del Capo, titolare di un'azienda che produce calze caduto accidentalmente dalla scogliera, sono dovuti intervenire vigili del fuoco. Con un elicottero partito da Bari, l'episodio si è verificato a Santa Maria di Reuca. L'uomo si trovava sul tratto di scogliera che si affaccia sulla strada provinciale 214 quando all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è precipitato in un punto particolarmente impervio per i soccorsi. Oltre ai vigili del fuoco, la zona è stata raggiunta da un'ambulanza del 118, dai carabinieri della compagnia di Tricase e a bordo di diverse motovedette acquascuter, li uomini della guardia costiera insieme agli operatori del 118 mare. Sia da mare che da terra era impossibile raggiungere in sicurezza la zona, così si è optato per l'unica soluzione possibile, un elicottero. Una volta raggiunto il luogo dell'incidente, dall'elicottero è stato fatto scendere con la funa un operatore del nucleo SAF. La vittima è stata imbraccata, tirata su e trasportata al Vitofazzi di Lecce. Ha riportato un trauma cranico, contusioni multiple e probabili fratture.